Padre, quello è San Michele, giusto? Proprio così. L'arcangelo Michele, con la sua spada fiammeggiante. Lucifero. Tu fermerai Lucifero. Sei il prescelto. Sono un tramite, sei il tramite. Tu sei il mio tramite. Il mio unico tramite. Perché credete che vi abbiano scelti come tramite? E perché proprio io? Perché tu sei il prescelto. Michele, il fratello maggiore, leale a un padre sempre assente. E Lucifero, il fratello migliore, ribelle ai progetti di papà. Ce l'avete nel vostro DNA, ragazzi. È il vostro destino. Siete coinvolti anche voi. Qualsiasi scelta tua faccia, qualsiasi dettaglio tua, e credi? Noi finiremo sempre per ritrovarci. Tu mi lascerai entrare. Qui. Sei solo tu. Sai, immagino... Opponendo resistenza. Come ti agiti lì dentro? Era troppo legato a te. Chi te lo dà questo diritto? Nessuno ci dà il diritto. Ce lo prendiamo. Il libero arbitrio è un'illusione. No. No. È per questo che tu farai quello che ti chiedo. Ma tu dovrai dirlo di sì. Tu lo sai che non c'è altra scelta, non c'è mai scelta. No. Perché avrebbe accettato? Ok, sì. Per amore. Sì. Non ho più scelta. Non ho altra scelta. La risposta è sì. Stai lottando duramente per uscire. Non ho più scelta, non ho più scelta. Non ho più scelta, non ho più scelta. Non ho più scelta, non ho più scelta. What's in your head, in your head Stop it, stop it, stop it Oh, 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 oh It's you It's you